Grave incidente stradale lungo l'autostrada 2 all'interno di una galleria in direzione sud tra Scilla e Bagnara in provincia di Reggio Calabria dove i due auto si sono scontrate coinvolgendo anche una moto. Nell'impatto sono state 5 le persone rimaste ferite tra cui una bambina di 7 anni che versa nelle condizioni più gravi che è stata trasportata in elissoccorso all'ospedale di Reggio Calabria. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118.